Le fredde temperature che stanno caratterizzando questo inizio dell'anno e le nevicate dello scorso weekend hanno creato qualche disagio, soprattutto a chi non ha un posto dove andare o chi ha delle difficoltà economiche. In città prosegue infatti, proprio in questi giorni particolarmente freddi, l'attività di solidarietà svolta nella parrocchia di San Pio X e nella Casa di Gerico, lì dove sarebbero sempre più numerosi coloro i quali cercano un luogo e un pasto caldo. Iniziative di solidarietà che vengono portate avanti grazie alla collaborazione e generosità dei volontari, ma anche grazie all'aiuto delle suore che si occupano di migranti e delle famiglie più bisognose che vivono nel quartiere Provvidenza. In questi giorni, proprio per il freddo che c'è, ce ne accorgiamo tutti, al posto di venire alle 12 per venire a pranzare e ne vengono di più, vengono già alle 10, alle 9 e mezzo perché noi gli facciamo trovare caldo l'ambiente e provvediamo con vestiti, con coperte, soprattutto cerchiamo anche con le suore, che sono veramente una benedizione di Dio in questo momento per questo intervento di queste persone che aspettano di poter entrare a Pian del Lago, hanno necessità di coperte perché vivono sotto una tenda, sotto i cartoni. Immaginate che freddo, abbiamo trovato persone quasi congelate, raffreddate e quindi un intervento di medicine, di primo intervento, meno male che la sora è anche infermiera e capisce, parlano la loro stessa lingua, alcune delle tre suore e quindi si sta cercando di venire incontro, ma anche ci accorgiamo in barrocchia che per il momento non vengono i fedeli, ma i poveri vengono e se ne devono andare con le mani in piene, anche se i fedeli in questo periodo aspettano il caldo e speriamo che quando c'è il caldo verranno perché poi c'è il periodo del mare. Noi ci occupiamo in modo particolare dei migranti, dei profughi che incontriamo per strada oppure anche sotto a Pian del Lago, poi dobbiamo essere ponte per integrare, cercare un'integrazione fra la gente della città e poi abbiamo un'attenzione particolare anche i nostri poveri italiani, non solo gli stranieri, dando un servizio, visitando le famiglie più necessitate, che hanno più necessità.